Si prevede che la montare della plastica negli oceani raddopperà nei prossimi 15 anni e che entro il 2050 ci possa essere più plastica che pesce nei nostri mari. I rifiuti plastici sono però una grande risorsa. Connettendo questo problema globale agli attori locali bisognosi di cambiamento sociale, possiamo trasformare le comunità più in difficoltà in promotori di sostenibilità. Sembra che la plastica, una volta utilizzata, sia invisibile, proprio come i nostri vicini senza tetto, la crisi ambientale e la condizione sociale delle persone senza fissa dimora vengono percepite come impossibili da cambiare. Vogliamo proporre una prospettiva differente e propositiva, vantigiosa per tutti. Nasce così Via Rinnolo, un progetto che vuole sostituire la parola da rifiuto con la parola da risorsa, per un futuro in cui tutti siamo ancora responsabili del benessere comune. Situato agli estremi di Nolo, presso le gallerie di Centrale Ventura, Via Rinnolo è uno spazio ibrido in cui le risorse vengono raccolte, smistate, redistribuite e trasformate e dove ognuno può contribuire come preferisce. Oltre ad essere raccolte e a ricevere pasti caldi, le persone senza fissa dimora possono partecipare al corso di formazione professionale sul tema del riciclo della plastica e acquisire competenze tecniche artigianali che aprono opportunità di lavoro all'interno del nostro sistema. I prodotti realizzati soddisfano le esigenze degli stessi partecipanti. E vengono anche proposti al pubblico in negozio per sostenere i finanziamenti costi operativi di Via Rinnolo. È incluso un servizio di manutenzione dei prodotti, progettati per essere facilmente disassemblati e riparati. Come misuriamo il nostro successo? Quantificando la plastica trasformata, i prodotti venduti e gli studenti che concludono i corsi formativi. Via Rinnolo prevede di espandersi e dare nuova vita a gallerie limitrofe, per poi essere replicato in altri contesti urbani che condividono la stessa realtà di Nolo. Il progetto può essere replicato con altri materiali di recupero e aperto a collaborazioni con università di design e brand affermati, connettendo talenti in un circolo virtuoso di creazione di lavoro. Via Rinnolo, perché tutto è prezioso.